Vabbè, vabbè, allora... AIAI! Non è che vado a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aspetta, partire la caccola, l'ho vita! 10... Ho il piano! 12, 13, 14, 15... Avete trovato la besciamella? Vai! Secondo piano... 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 12, 13, 14, 15... 15... Si aperto, si aperto, si aperto! Sofì!